eccoci qua oh salve ragazzi siamo su little night company, no night little company oddio che succede? ah ok vediamo se ci sta qualche server ah se ci sta, ci sono, ci sono ok ita, uh, ita vediamo un po' questo ita, vedo chi becchiamo non so chi sono, proviamo? ah giusto, sono, lo vedete allora piccolo parentesi, la porta che è un mimic, quello là, vedi per sé quello che dissi in un vlog, in un video in uno dei gameplay, dissi che c'è un mimic porta praticamente ho scoperto che è una mod quindi non è vero mettiamo, c'è una live ah, ma ci entro anch'io vediamo che succede niente modded io c'ho il lupo no aspetta io c'ho il lupo aspetta sono la risposta sono la risposta no non mi ha accettato vabbè allora dobbiamo aspettare il quarto ok eccolo qua ciao salve ciao mi senti? fate chi ha? che ha il lupo? che ha c'ha il lupo? ha c'ho il lupo è un sorcio adesso ma diventerà una bestia verosa bella citazione per chi la sa tanta roba si e torniamo del prult forever raga poi se ancora mi deve far uscire l'ultimo episodio eh è il terzo episodio vabbè ma ora sta a fare alto ora sta a fare doppiaggio fa scuola di teatro qualcosa si sta facendo però un gioco in realtà ah ottimo ottimo non mi sono molto aggiornato ultimamente non lo sento sul disco da una vita su discord? ah no niente lo seguivo tempo fa nella sua pagina discord ah ok pensavo fosse amico e da brulla eh magari io è gay io mom ga eh ordino un altro paio di pro flash light e mi devo allontanare per qualche minuto per far fare un giro al canale e arrivo subito non ha salito le strade fk in nave? si si le strade pure le strade fk in nave ma scusa ma abbiamo tempo di andare a premere fresh light su titan? eh si vabbè recupero io la roba non mi preoccupate se è rimasto quando avvi sentito che su discord è vabbè non mi posso vantare perché era tempo fa adesso lo devo aggiungere perché poi intanto andiamo su recupera lui la roba allora noto che si è 1314 me coglione ok non c'è scuola non c'è baggato bene abbiamo già 500 e passa andiamo fai zeli ti difendo io ho una palla e non ho poco di salto grazie 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 prego sto arrivando si dovrebbe comparare la doccia per la fatta la bambina si dovrebbe comprare la doccia che paura no ho sentito la musica e sono scappato pensavo pensavo che l'avremmo perso se sono andati i due ho detto oddio no no stavo con la cuore a recuperare la roba non ti preoccupare ok 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 dovrei aver preso tutto va bene no eri tu che è andato a accompagnare il cane il cane no si si stavo per sicurezza immaginavo che sarebbero partiti tutti quanti quindi ho detto aspetta ok vai 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 che tanto quando ho sentito sono arrivato buonissimo all'improvviso ho sentito ok 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 c'è il breaker c'è il breaker oh un attimo pronto non so perchè sto laggando tantissimo oh salve buonasera tutto bene si tutto a posto allora paolo io ho letto la tua email praticamente tutto non so perchè sto laggando tantissimo oi non so perchè sto laggando tantissimo 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 Grazie. Tranquillo, io sono seguito dalla bambina. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Delta, ascoltami. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Dove cazzo hai trovato che ero un secondo fa? Oddio santo! Ancora! Per un cazzo! Oh! Oh! Eccomi qua scusa dovevo accendere mi sono perso ah ecco dove l'uscita ok no non è l'uscita quella No mi sono perso non è qua l'uscita Si si stiamo girando ancora No ma infatti qua credo non abbia più nulla dobbiamo andare forse a quell'alto d'emergenza Eh penso non sia tanto distante quella dell'emergenza Ah? Non penso sia troppo distante quella della file exit Vabbè si anche vediamo un po' Infatti sarà qua dietro Guarda che mi si riprende un po' di stamina che qua sono lentissimo Lì non c'è niente quindi Sì Oddio mi si è sparato ah salta minchia che anzi Dovevrei tornare indietro Che dovrebbe essere lì dritto Si eccola Esatto Oh, meno ma Allora Cerchiamo di portare a aprire questi via E poi andiamo a quell'altro E qua non posso portare Oggi per lavoro mi devo rompere Le scatole Vabbè, meglio che si lavora Allora, andiamo a prendere quell'altro E uno va nell'altra Nell'altra porta Che già sono le 3 Alle 4 spottano i cani Vai di là Io prendo questo e lo porto via Allora, andiamo a prendere che Allora, andiamo a prendere che Ah, ecco Ti è dato qualcosa? Ci serve una chiave Ah, cavolo Ok Ok Abbiamo Ora sono È un minuto nel gioco Ah, in quel Ah, sì, sì No, ti ha fregato Allora, sai che fa Apriamo il generatore Sì Là sotto Sei andato qui sotto Sì C'è la sua Senza del break Allora, prendiamo quel generatore Che è il sapevo dov'è E lo portiamo via E lo portiamo via Vabbè, però se ti tuffi Sono ancora vivo Senza danni Ok Prendiamolo e portiamolo via Sto coso Corri Sto coso Grazie Va bene Ok Vabbè Meglio di niente Sono morto però Ci ha portato il generatore via Però questo si chiama sfiga Eh, lui tutto contento Sì Vai Valedetto Mamma mia Che culo Eh, però abbiamo preso Molta roba Troppo facile Eh, troppo facile Sono stato magnato Troppo facile Ok Vabbè Scalzi a parte Troppo facile Troppo facile Ho capito Ho capito Eh, siamo un po' sotto Eh Ci vogliono Altri Un bel po' Alta la roba No Aspetta Sì 580 Eh 316 Mi sa che non almeno altri 700 Eh, per forza Sì Mi dà un 584 Comunque per se Comunque ce ne vogliono ancora Vabbè Dai Proviamo Dai, proviamo Dove andiamo? Vediamo cosa c'è Allora Titan e Stormy Dine Eclipsed Rand Non so che sia Rand Questa è Offense Eclipsed March Va bene qualsiasi Va bene qualsiasi Titan è cazzo duro Eh, se abbiamo soldi per spendere per usando Titan Non dice nulla qua No, Titan e Stormy però No, Stormy no Perdiamo malissimo Dine, Eclipsed Sennò Rand Lo so Lo so Vedi tu dai Sennò aspetta che gli altri si uniscono Prima di fare un'altra partita Eh, che ho messo Eh, che ho messo Franzo only Facciamo così Sennò che anche tu hai detto Dopo devi uscire A accompagnare il cane Io te lascio e vado a trovare qualche altra partita Ok Lo lasciamo qua intanto Eh sì Poverito Dai, è stata una bella partita Bella Ciao È andata un'altra partita Eh, non ha messo il Genefe Vabbè Eh, poi È bruttissimo Però dai Questa cosa è bruttissima Anzi È divertente Di Vedere le ragazze che giocano qui Soprattutto Si 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 I cazzi su Titan Ah, Titan Questo mi fa rito Sentiamo che cosa Tanto sto parolaccio Vediamo che Che tipi di persone abbiamo a che fare Ho paura Ok Come non detto Noob France 50 quota Ok Si Ho un gatto Avete un gatto? Ho un gatto Eh, non posso È tutto full Si Però Non mi fate così Però Ja Io C'ho il lupo Una totta No Allora Dove è quello là Solo Ita Sto Quando Vado da quelli là Di Ita Oh Dai Mi sto stancando Non mi fate questi scherzetti Non mi fate questi scherzetti Però L'italiano è alle armi Solo questo Lo accetto No Anzi C'è questo Ita Con la luce La lacrimuccia Vediamo chi so questo Quindi è parecemente sera Sì Questa è una scherza Salve Buongiorno Buonasera Buon pomeriggio Buongiorno 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 anche a lei Ma lei è Herobrine Allora voglio dirvi la cosa Allora voglio dirvi la cosa Normalmente sto nella ship E' una nuova run con questa E vorrei provare a dittare la quota più alta Torno Ma fa video su youtube No sto facendo una live in questo momento Uzzio dimmi la live Dimmi la live Qual è che ti lascio la sub Se si possono fare Mi chiamo delta 28 Paolo Pavels Delta 28 Mi trovate tranquillamente adesso come Ok Attualmente in live E ci dovrebbe essere anche un altro youtube italiano Un altro streamer Volevo fare la sub a qualcuno Ma perché c'è il prime Ma non sapevo a chi farla Quindi ecco No ma non c'è problema Su delta Come è delta? Mi detti un attimo Il mio nome delta 28 Mi Ah ok Ho un casco Da guerre stellate Nel gioco Ah ok Delta 28 Ah ok perché nel gioco Gli toglie i numeri Quindi non sapevo il Come toglie i numeri Non sa scritto delta 28 Ita No C'è stato scritto delta Ita No Shakura Certo rimani Infatti anche Robrian c'è scritto H Rupi No ma non ti posso fare la sub Non è abbastanza Ah ma si No aspetta Ah no non mi posso fare la sub Vabbè ti seguo Ma non ti preoccupare Non ti fa problemi Tranquillo Io lo faccio per Robby Non Mi sembra simpatica Comunque Allora se wow E asciut Ma Brian You speak Italian You speak English You are Italian You are in France Sei italiano ma non puoi parlare Giusto? Salta due volte per confermare Sì 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 Perfect Non può parlare perché si sente Dietro qualcuno che lo urla di Va bene va bene Non c'è problema Sì 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 Quindi c'è l'attivo il microfono Però non puoi parlare Ma che storia Cioè quindi c'è l'attivo Che storia Quindi ora puoi parlare Allora c'è wow e c'è wow e c'è il resto di natura Ehm mi piace wow Ok quanti anni avete Quanti anni avete di esperienza di questo gioco Anni eh giorni settimane Io ho 40 ore È letteralmente la prima volta che ci gioco Oh sono quasi a 60 Ah ok Ho dovuto alzare la voce Nameless 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 Perché questo nome? Sì che in realtà Perché hai caratteri speciali sul Steam Ottimo Esatto non sarebbe il suo vero nome Anche questo Perché così come a te toglie i numeri A lei toglie i caratteri speciali Esatto Boh andiamo Trovate tutto nel coso rosso Vedo robe qua sopra Mo l'ho notato Chi Chi prende il walkie-talkie? Ehm Bah lo posso prendere pure io Resto la nave No 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 Resti solo la nave Ah no andiamo Ah resti solo la nave Ah ok Ok dovrebbe essere l'ingresso Sì di là Di qua di qua Sì 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 di là Ok nave mi ricevi Ah ok passo Nave adesso andiamo a entrare sul ponte Per confermare la sua resistenza No resiste il problema quando porti roba sopra Tranquilli che resiste Ci vanno anche tranquillamente Quando portiamo la roba che cade Ciao Più o meno Non è che dicevi Pesi troppo Devi dimagrire Eh ma io sono È colpa tua Eh sì sì sono l'americano Ma il mondo rimane sulla tua live Perché così io vado a vedere le cose che scattano No no ma sicuramente Sì sì è naturale Questo in live si vede tranquillamente Quindi non taglio un ben niente Tanto poi si caricherà Tutto su youtube C'è qualcosa sotto Ah ok Telecomando C'è un Come si chiamano Telefoni Telefoni Lascio fuori Ah ok Io sto schiattando di caldo Ottimo Qua si sta bene Ma dove siete tutti Tu vieni con me Eh io sono di qua Non c'è niente Di là in fondo Come non c'è niente Non c'è niente Proprio chiuso Ok La nave mi suggerisce di andare alla FireExit Perché non c'è niente qua Ok Eh sì nave ricevuto Stiamo andando L'ho riferito Ok Mi vado giù Mi vado sopra Ok Cavolo è chiuso No Questo Ci serve una chiave Avete una chiave? Eh no Cavolo Qui sotto C'entra qualcosa? No Cosa ho preso Cavolo Eh nave qua c'è una porta Si è chiusa chiave Non possiamo andare da nessuna parte In questa stanza No dobbiamo andare a trovare un'altra via Non ci sta un altro ingresso Si Aspettate che sento anche Sta parlando pure la nave Quindi non capisce Ma c'è una chiave la porta Ora vediamo se c'è un'altra Ma non c'è un'altra entrata? Lo scrive No mi sa No ci dovrebbe stare una però dall'altra parte di là Ma non mi ricordo come dove si entra Ah Perché sono ieri Sono tre ingresi Due uscite emergenza E una di principale Questo sono almeno in tutte le mappe Ok Lo vediamo un attimo Prendo un attimo l'oggetto che L'ho preso io Se era quella campana L'ho presa io Si ma sopra invece Mi sa che non abbiamo lasciato niente Non lo so Avete preso qualcosa sopra Vabbè torniamo di là Si si nave Sappiamo dov'è la nave Ma ci chiedevamo Si avevamo lasciato qualcosa indietro A quanto pare no Ah ok Allora Ok Ok Salve Buongiorno Buongiorno Buonasera E quindi Niente chiavi Dicevi Cioè Non c'è niente Qua Eh no Era una vera Pensavo che fosse La mia vecchia Era dove avevo Trusse tutto Sette le merdi Di chiavi Ma che sfiga Che non Cioè Nel'altra entrata ci stava No Tipo di là Cioè No Ci sta un altro di là Mi sembra Però mi ricordo No Ma era un altro pianeta Mi sa Che era simile a questo Si esatto Ah E quell'altro Ok Ok Offense Tipo No Offense No Possiamo Sarcene per ora Non ci sono problemi Ma si Perché purtroppo Non possiamo andare Da nessuna altra parte Posso fare un controllo Se è ancora mattina presta Profi Pomeriggio Eh ma non ci sono Allora ti dico Aspetta Ti dico Non c'è un cazzo Da nessuna parte Se non dove La porta è bloccata Eh forse si Qua è tutto circondato Ah giusto Solo che c'è Wow cavolo Ci stavano 34 oggetti Qui dice 2667 E di valore Wow Mica Vabbè dai Ci sta Il terzo giorno Cioè Si Ok Vai vai Parta parte Andata così Ottimo Ottimo direi Adoro Ma canta voi In ogni partito Direi dal campanico Entravo Mi sento un boomer Domanda curiosa Quanti anni avete Curiosità molto stupida Domanda stupida Allora un nome è un numero Due cifre Per fortuna 21 21 Tu Io sono più vecchio Di voi Ok del tipo Quanti anni hai 47 35 Ah 35 Wow sei più giovane di me Io ho 31 E che Io penso che ero più vecchio Di voi Eh Cioè Offense Marci Dove vogliamo andare Sì sì Dove vuoi Sì sì cosa Dove Dove vuoi Scegli tu Decidi tu Tu sei il capo Io dico fence Tu sei il capitano Capitano mio capitano Vada scelga Sì ok Ma io non esco Quindi Stavo a decidere Se volete andare A morire Vabbè Ma come non esce No hai rei Solo Solo per prendere gli height Da Da scelgo Giusto Ah è una Dei miei mappi preferite Eh sì Anche il mio 18 item 1.400 Vediamo Cosa fare È muto Vediamo come andrà a finire Moriremo male Tanto Il primo a morire È sempre il vecchio Ti dimostrerò Che non è vero Quello si chiama Fortuna Oggetto 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 Megafotonico Grosso Grosso E c'è pure Ok Oddio Che cazzo È uno squalo Si Si salta Oddio Colpitelo 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 Quando si chiama Fortuna E vabbè È andata Posso andarmene È stato bello Ma la cosa divertente C'è un modo Per sconfiggio Qualcosa Bastardo Si deve Plasticamente Per essere sinceri Saltare Sulla ringhiera E colpirla E mochi Lo dice al capitano Sono morti Lo so L'ho visto Saremo lo stesso Che tata Hanno fatto Una bella morte Era quel coso Che cammina A tre gambe Ok Ok Ah non abbiamo Il coso Per scannare Ah giusto Non abbiamo Il Vieni Ricarica la torcia Si un attimo Per sconfiggere Quel coso Che l'hanno colpito Due volte Si deve mettersi Sopra una ringhiera Così non ti piglia No La ringhiera Non funziona più Ah Lo disse Che non funziona Però se moro Uno dei due muore Si scappa No Se uno dei due muore Si resta No Ma perché Che cattiveria Sta cosa Lo fanno molti Sta cosa E che Se Un obiettivo Devi restartare Quello Perché Ovviamente Cioè Già Nella prima Prima giornata Abbiamo trovato Un cazzo Choriamoci Se Che Non troviamo Niente Non troviamo La quota Allora famenta Prima a me Però Perché Somma Che ti piglia Se fai Se fai lo scan Davanti alla porta Puoi vedere Ci sono Near activity Si Sta arrivando Baragno No Eh vabbè L'arrestato L'arrestato Ci ho provato Si chiama Con la faccina Ita Con la faccina Che piange Sorridente Eh Eh Ah la faccina Ah ok Ok Non l'avevo Già Non ci stavo Più a capire Ara Araboni Ok Non è questa Ah eccola qua La sfiga Eri buongiorno Eri buongiorno Beh buongiorno Sono Buongiorno di nuova Sveglia Vabbè Il buongiorno Comunque la sfiga Dovamo beccare Proprio noi Quella brutta Bestia De satana Non sento più nessuno Ecco Hai un microfono Che si sente lontanissimo Mio cara No E' che Sto andando piano Spera Forse ho sbagliato il microfono Eccolo giusto Si è inchinato Perché ti vuole Ti vuole dare Il matrimonio Dai Sposami No Dovevo accettare DGS Comunque Non entro al quarto Dio Cristo Forse non verrà O verrà O non trova il server Boh Ma vabbè Ma non arriva Proprio il quarto Ma che resta In tutto ciò Ah E' sei un quarto E' 44 Perché neanche chi dici Che sono mezzanotte Io Cristo Cioè dai Non voglio andare a entrare In due Magari Magari torgo Magari ne faccio una Proprio nuova 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 Magari Non lo so Vedo Non lo so Qua mi dice 256 Quanto abbiamo Qui scusi Sì Abbiamo abbastanza Però Cioè non voglio andare in due Capisci No no Quello si è ovvio Però neanche in tre Anche se ho visto gente Che riesce a giocare in due Sì Io avevo giocato in due Anche da solo Ho giocato Ma Il fatto è che Adesso Mi ribadisco Un obiettivo alto In me In due E' Nonostante difficile Anche se entriamo Entrambi Tu lo sai che Tanto si chiama fortuna In questo gioco E per guardarti Avanti e indietro Mamma mia Metti ansia Signorina Sta calma Sto continuando A seguirti È bellissimo Calma Anche il mio personaggio ha l'ansia Anche il mio personaggio ha l'ansia No no Voi donne avete l'ansia Voi siete l'incarnazione dell'ansia Lo so perché me lo dite tutte È un dato di fatto Allora Facciamo Facciamo così Che 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 facciamo Allora Allora Ho visto che c'è un sacco di server Italiani in generale Quindi oggi Infatti È orario Quindi credo che Forse ha scelto un altro server Può essere Ha cliccato uno sbagliato Probabile Penso E ipotizzo L'altro giustamente ha quittato Perché ha detto Se voglio giocare Voglio giocare Però giustamente Non potevamo comunicare con lui Possiamo fare una cosa Però simpatica Possiamo anche giocare in due Però ci servirebbe Almeno i primi due mappe Le due mappe Sono più semplici E facili da gestire Beh A direi vero Ora sarò sincera Parlando di statistiche Le prime due mappe Cioè Experimentation E Assurance Assurance È la più difficile Delle facili Mentre Experimentation È facile Ovviamente Però non c'è un cazzo di lutto Ok Buonasera Buonasera Allora dico anche a te Ciao Io resto normalmente nella ship E sto cercando di arrivare A la quota più alta Ok La quota più alta sarebbe? E guardo il record Visto che è di 7000 Io prima sono arrivata a 3000 Ok Quindi è un gioco più safe E diciamo No Non più safe Più Più professional Ok Va bene Però Va bene Ma nel senso rimani in base Fin dall'inizio O fai una mini run E poi rimani in base No Allora Aldeni Diciamo che ora abbiamo Non abbiamo più un cazzo Perché La gente muore E quindi Però Perché avevo più loot Cioè avevo comprato più cose Però Tutta la gente Moriva 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 E quindi Questa è bella Vedo gente morta Allora Allora Abbiamo comunque due uki toki Quindi uno può usare Tu puoi rimanere tranquillamente Qui dentro E noi due Andiamo a esplorare Speriamo in bene Di non vi essere mangiati male Ok Ok Rimaniamo noi tre Aspettiamo un quarto Io volevo aspettare un quarto Però Se no In tal caso Se andiamo noi tre E il mio obiettivo Con questo mondo Allora cambia E giochiamo for fun C'è no Ah ok Vabbè Se ci si do Si gioca Per divertimento Alla fin fine For fun Giustamente Sai Quando Vuoi accimare qualcosa di importante Ad esempio La quota più alta Ho visto gente Che gioca tranquillamente Si diverte Ma riesce a fare delle cose Maledettamente fighe Quindi Secondo me Si può fare Contemporaneamente le cose Certamente Non fare le scemitaggine E stupidaggine Quello no Però Sì no Quello no Però dai Siamo seri Dai siamo Siamo persone serie Cerchiamo di non morire Il problema Non siamo noi A deciderlo Sono quelle bestie Là fuori Beste de satana Quando sei fuori Ti giri E ti trovi il braccio Nel viso C'è poco da Da fare purtroppo Esatto Là purtroppo Cade la fortuna Un po' come fall guys Stesso discorso Puoi essere pure bravo Ma là Se pigli male una cosa La pigli per sempre Se arriva un quarto A me va bene Anche fare Più lo strategico Se no Comunque Stando attenti Si può stare Fare anche in tre Insomma qualcosa Magari non si arriva Chissà dove Ma Ma si può fare anche due Se per questo Ma diciamo che Più si è meglio Lei ha paura Un po' più rischi Lei ha paura Che rimane subito Io rimango Io entro dentro tranquilla Senza torci Poi muoio Magari Però Io non è che ho paura Io semplicemente Non so orientarmi Io dentro Mi perdo letteralmente L'entrata Puoi fare questa cosa Un po' più lunga Però magari funziona Vai tipo Prima Tutto a destra Sì Lo so Poi a sinistra E poi torni a sinistra Vabbè Ryoga Abbiamo Ryoga Abbiamo capito Che abbiamo Ryoga O Zoro Quali dei due personaggi preferisci Allora Vector Origin Te lo dico anche a te Mamma bene La quarta volta Che lo dico Ciao Sto cercando Di avere Il limite più alto Di quota Arrivarci Io di solito Solitamente Sto nella ship E quindi sto cercando Delle persone Che comunque Per quanto ci sia Il divertimento Ma comunque Che siano un po' più You get me Dai Su Moriremo comunque male Quindi Mi sembra molto motivato Io sono ottima Io sono ottimista Non lo vedi? Minchia Sì sì no Non te Mi intendevo lui Mi sembra molto motivato Andiamo C'è offense e marce Dove volete andare? Io preferisco marce Ho offense Ci stanno i vermi E mi inculano Se arrivano marce Pi' difficile Ha ragione Più che te inculo Ti manano in un boccone Ti fanno Non posso prendere Se non partiamo Ok Ci sono 18 item 2006 Ok Eh la palla Ragazzi la posso prendere? Sì prego Prendete quello che cazzo volete Gentilissima Eh aspetta Eh Posso prendere le api O qualcuno ci vuole pensare Eh le prendiamo dopo Le si prendono sempre dopo le api Vabbè con calma Cosa alla volta Intanto andiamo Intanto ci siamo fortunati Avete visto che sopra Ne avevamo altra roba Quindi per fortuna Con calma Ah Cosa? Ripeti Mi saluti Ci sono attaccato delle api Qui ragazzi Ragazzi C'è un'altra cosa delle api Là eh Quello Vuole avvisare No lo prenderemo dopo Magari riusciamo a farli Tutte e due Sai che è variata Vediamo Anche tu Ok siamo dentro Ti terrò aggiornata Informaci se c'è qualcosa In zona da noi Sì Che avevo detto Non c'è un item Alla media Nure Sono Nella stanza Tra la mia Inizia Senza C'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Ok Ricontrolliamo Nella zona Inizia C'è un cazzo Delle oggetti In zona Si è aperta una No Ok Si è aperta Un No Forse Di altri Magari E una Inizia Davanti Di voi Dietro Ho sentito una cosa O sentito qualcosa In molesto Di qua non c'è niente Credo sia uscito un mosso Non ho capito Aspetta Forse ho capito Dove sta Diceo like Ma dove Si è spaventato C'è una chiave ragazzi Ti saremo Prendila 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 Ok L'uscita D'emergenza È là Gli oggetti Dice qua Specchio Delle mie brame Che è la più bella Del re Vado Vado Niente Ti presegue con una porta Non so saltare Ecco No 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 Quello sta Dove erano gli altri Qui è tutto pulito Non c'è niente Tutto pulito Guarda Sì Prendite questa Che io vado a tu Sennò che ho la pala Vai vai Ah ok Salendo di là No aspetta A sinistra Dice Di là Vuoi controllare di là Intanto Vedere se c'è qualcosa Sì No no Ho detto agli altri Di controllare Nell'altra stanza Intanto Ok Trovato Signore ha trovato L'oggetto C'è niente Sennò che la torcia Si è spenta Quindi Prego Ok Era spavolato il mod Non so cosa sia però Cosa è spottato Eh io non posso Sei su Discord Sì Sto su In che senso No no Io Sono In live attualmente Su Twitch Ciao Dax Ok Che è passato Un po' di tempo Qua stiamo tornando A fare tutto il giro Purtroppo Non ho Torcia Ok Che si è tornando In dietro Niente Allora di qua Ok Uscita Ok Sto sentendo Dove siete Parlate Ok Ho fatto tutto il giro Ho fatto Uh si sale Uh oggetto Oggetti 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 Eh se riusciamo C'è pure il generatore Ma non lo so Aspetta Controlliamo se qua Siamo in una zona Di c'è d'uscita Qui 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 l'uscita E qui l'uscita Ok Allora posso prendere Anche il generatore Dopo dai Rientriamo Gacca La torcia era spenta Puoi aprire la porta In favore D6 Come un vicolo cieco Ah ok Un vicolo cieco Ok Allora c'è il generatore E aspetta L'uscita E qual è il generatore E poi si va a tornare a casa Quale item S'aspetta Dove No Quello è il generatore Non lo stiamo toccando Per ora C'è qualcos'altro In zona No è solo il generatore Quello Che dici tu Ok Trovato 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 Prendere il generatore Ha detto Di non prenderlo Adesso Ok Vuoi prendere il generatore Ok Ok Prendere il generatore E ce le torniamo Oh cazzo Vieni qua La strada Il user C'è un titano Qui alla prossima Facciamo un oggetto Un oggetto E ce le torniamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho dovuto spegnerla un attimo perché volevo capire. Scusami eccoci. Dove 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 andano? Oh merda. Eh riperone. Teleporta mi merda. Niente è andata male. Era dritto a noi ma niente. C'è andata malissimo con quel bestia. Ma è certo poteva teleportare. Eh però se è quitta in questo modo però... Vabbè hanno tanta bella roba però che palla. Vabbè ci faccio l'ultima cosa. Vediamo un po' con lei. Perché lei vuole far qualcosa ma ci ha fregato quel gigante del cavolo. Vediamo un po'. Entra. Non è lo scusato. Non ha messo. Io ripeto questa cosa è bruttissima. È tristissima sta cosa. Credo che gli soggirate. Secondo me non c'è... Ah ecco giova ancora. Ok. Ultimo tentativo signore. No vabbè ma quel cacchio di gigante proprio mamma non ci voleva proprio. Quel gigante non ci voleva eh. Non ci voleva. Ah ah ah. Non fatto niente. Ok. Comunque la sfiga è stato il gigante. Mannaccia. Abbiamo fatto un bel lavoro. Vabbè. Vabbè. Andiamo entrando tanto Fonte Cassi. Eh vabbè. Se la vi... Allora vediamo un po'. Ok. 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 Speri anche che stavo trovata bene. Però è la prima volta che vengo ammangiato dal gigante eh. Allora. Oggetti. Uno. Ah oddio ma uscire l'emergenza è qua lol. Ok. 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 Vediamo un po'. Cos'è questo rumore? Non lo so, ho sentito il rumore Non è che sei saltata male Era qui No, non è qua giù Non so che è morto Si, e si è tuffata male secondo me Abbiamo questo, vediamo se ce lo troviamo altro in frattempo Quei hai fatto tu? No Allora si salta Eiz, la odio Aspetta, non saltare, faccio io Ok Che morte stupida Che faccio? Che morte stupida No, no, che fai? Salti Vabbè, l'ha fatto Allora, anche tu sei morta Come sei morta? Ah, ecco come sei morta Con il tasto dei No C'è qualcosa Che lo sta seguendo Beh, no No, era dall'altra parte Non ritorno Mi ricordo solo Beh, ottimo Ottimo Vabbè, ha fatto un altro oggetto Allora Ero quale Eh no Non era quello Sì, era quello Ecco là Era quello Pure il blob No, vabbè Si chiama sfiga questa era Tra il blob Tra il blob E l'insetto Che ti pite in faccia Ciao Va bene Grazie Oh well Ma che cosa è successo Cioè, io non ho capito Come sei morta E te l'ho detto Ho fatto la tua stessa morte Ah, no Non ho sentito Non c'è Non mi è arrivato il messaggio Cioè l'audio Quindi ti è caduta male giù Tu sei stato ammazzato Da un insetto E poi sei stato forse Divorato da Dal blob Da slime E vabbè Di nuovo sfiga Comunque la skin che usa E quella là di League of Legends Non ho sbaglio La ninja No Ah, somigliava Direi proprio Non ci assomiglia Da Kali Proprio a zero Con la skin quella là Mi ricorda quella skin Che faceva pop là No Queste cose così identiche Tra i personaggi femminili Così Sti anime Ok Cos'è questa cosa qui davanti Ah Ah Soltanto E vabbè Ma non Ma non è che ogni volta Sola saltare Che palle C'è roba? Ho una chiave Ottimo Io esploro un attimo Vediamo E lasci così Che senza luce Che a me non ha Vabbè No Vabbè Non è possibile Vabbè Ma non è possibile Dove siete? Siamo qui No Lì è tutto Ricoccato No Ci sono Se facciamo il jump Ci sono alcuni Ah C'è la stanza Del Stolto De chi? Venite Venite No L'hai in fondo Non c'è niente No Niente Spera Spera Dobbiamo fare il jump Ah Lì dobbiamo andare Allora Per forza Ok Uno Vado Forza Dai Bella Dai Dai Roma Dai Roma Dai Ok Ah C'è la cosa dell'uscita Qui Venita C'è la cosa dell'uscita Qui C'è un'altra gara Aspetta Dov'è C'è solo la via d'uscita Qui Cavolo Solo la via d'uscita Qui c'è Eeeh C'è cazzo Ah vedete Vedete Di qua Di qua Aspetta Ehi Wey Wey Ecco Lo dire Sì sì Mostra Sopra Eh no E' sotto Ehi vabbè Labirinto Chiuso Porta Ragno 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 Eh che fama Ragno E' scappato Il nostro capitano E' scappato Oh eh pure quello sta arrivando Sì sì ho notato E' saltiamo Non c'era niente Non c'era niente Forse dobbiamo uccidere il ragno Però non abbiamo niente Come possiamo ucciderlo Non credo che questo aiuterebbe Eeeh niente Vabbè abbiamo trovato un oggetto Uno Due 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 L'avevo messo qui Ecco quello che tiene il Lui Lei Certo No l'unica cosa che abbiamo trovato No c'è anche un regalo Ah ottimo Almeno vediamo cosa c'è dentro Una ma A me è una mara Una mara per emio Scusa Ah Apriamo e vediamo cosa è Ah birra Almeno Almeno birra Ma C'è andata leggermente male Sì no Si ordiniamo la bo No mamma no Eh? Abbiamo Abbiamo 24 soldi La birra La birra è appena Andata via Ha preso il volo Ah ecco Ora è qui Allora ragazzi Allora ragazzi Proviamo con Office Proviamo con Office No Wow Experimentation Assurance Scusate Ci sono solo le prime tre Ah ok A me va bene tutti quanti Perché tanto ormai Tanto all'interno le mappe vengono modificate Cioè All'alderà Ma purtroppo Quello non puoi fare nulla Sono randomi Quindi non le impari mai a memoria Ma gli sconti sono random L'interno sono random Però la mappa principale no Quella la conosci a memoria Perché ogni tanto vedo una birra scomparire E poi la rivedo a spottare Mentre arriviamo È assurdo Ecco Vedo la birra proprio qui Ok Tutto normale Ci peci peci a faccia Paru peru pera Paraguamagico Meru peru Pipum bum 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 Ho qualcuno che va da Con il capitano La ragazza è impazzita Allora 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 ok l'altro amico tuo dove il collega è l'altro l'altro come non era con te ok è sì che c'è altra roba magari la porti già nella base io voglio salir qui sopra però ah eccoti c'è altro c'è altro da quello aspetta che mi sposto e lancia che fa questo effetto capitano ho preso un po di roba io mi ricordo quella ma c'è un cazzo per di qua no qui è quasi tutto chiuso solo qui sopra si ritorna sopra o di lato io sono una chiave giusto per sicurezza non lo so se serve per aprirla vieni ok no spero magari era di qua e anche di qua dove era la uscita magari era giù ok maron l'ha fatta a post allora nei vicoli stanno qua cip cip ciappa ciappa rubi rubi vaffanculo ho scarrafon si ho scarrafon io voglio ok 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 vabbè pazienza signori non lo trovavo io scarrafò non ce l'ho dato tutto non lo trovavo vai 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 che ce la fai dai che ce la fai ce la faccio sto aprendo un pacchetto di sigarette nel mentre però aspetta dove stanno le sigarette mi sono perso nelle mie mani fuma fuma che eleva lo stress devo fare un bel caffè io invece faccio un bel caffè caldo vabbè abbiamo soldi abbastanza per dargli qualcosa si ma vediamo solo il necessario si diamo quello che serve bobo basso so già 100 questi che ho segnalato ah so già 100 controlla 70 prendi questo dov'è sta a posto 124 no deve essere 130 ne basta uno no no ci siamo ci siamo ah si ah si ah si ah si ti avete dato tutto 160 wow allora a posto basta ok possiamo andare no lo datiamo copriamo scusche se gli paghi extra succede qualcosa allora se gli dai di più del dovuto a volte c'è non ho capito se ti aumenta il numero se dai troppa roba o comunque il restante ti arriva a te come soldi per lo ship insomma per la nave qua è bello spiego dica l'overtime funziona che ti dà più soldi se vendete più robe perché ovviamente state facendo l'overtime basta sei un zio paperone basta così ho pagato abbastanza mi ricordo quei nipotini prendete una bottiglia d'acqua ok per tutte e tre no per tutte e quattro allora ho preso una shovel chi la vuole vai io ho preso ok ha preso ok vabbè se vuoi andare a picchiare persone vai eh non è un problema se vuoi picchiare persone guardate che il materiale è contato eh il materiale è contato cioè abbiamo tre flashlights e una pala sì 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 assolutamente dai tanto so che raggiungi sui duecento e pazzo dai duecento e cinque è solo experimentation quanti siamo creti vabbè questo è essere professionali signori professional professional ah lo stesso ok rifacciamo come prima due da una parte e uno dall'altro spero che ti vedrai night before christmas o il grinch guarda tutti hanno visto quelle cose questo è molto bella Ah erate voi che correvate Minchia che ansia Ho fisso il drone che è lì Ok Avete trovato altra roba Io ho messo solo due cose ho trovato Sono morta Sono morta Perché? Sta la mina qua No la mina lo so Perché scappate che sono morta Sono morta Sono morta Perché C'è paura Esatto Ah Apre tutto Oh Uh aspetta Generatore Uh oggetti oggetti venete Prendo il generatore Uh ho un altro oggetto Generatore lo prendo Eh raga Qualcuno mi riforma per favore Sì 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 Vieni vieni Eh perché tu ti perdi Ok qui Devo provare l'uscita Via piano 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 No torno indietro Devo provare l'uscita Sì qui Ehm Volevo capire dove era la mina ok qua fuori esci no vabbè uguale avete preso qualche altra gioco qualche altra cosa cosa era possiamo prendere il generatore se volete non so no chiedevo no mina mina troppe mine non mi piacciono oggi sono un bel stai tornando a usare il giro no per una volta che serve non c'è no ok ma perché a me ma perché a me scarrafone quante chiavi rubate chiavi ok apriamo quella porta erano tutte chiuse queste no che bastardi non l'ho guardato però dobbiamo andarci da qua ok basta cos'è lingotto d'oro uh stra buono l'hai tempi difficili da trovare uh andiamoci se andai dritto dobbiamo aprire quella porta ce ne andiamo da qui minchia quanto è pesante sto coso eh si aspettate no è morto è morto è morto è morto è morto morto si no troppa roba prendi prendi questo dritto poi girate girate no no uscita attento 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 ragazzi io vengo c'era bene c'era il coso muoviti corri sono fotti io intanto che loro fanno mi faccio un bel latte caldo eh si il lingotto d'oro il lingotto d'oro è tanta roba no non dirmi che è morto è morto ok c'è altra roba allora vediamo allora vediamo un po' che sono il 34 povero dei miei rossi allora dopo questa ci vediamo provate a prendere l'altra roba brava ma se ho bene è un cane di chi è il cane? ok ok Grazie. Grazie. Cosa stai facendo al computer? Eh, ho visto la tua morte, Delta. Delta? Eh, mi sa che sei andato a fare il caffettino. Non so. C'è ancora solo experimentation, what the fuck? Ma... I soldi che abbiamo da spendo e lo rivedo. Non li vedi, appunto. Eccomi qua. Mi ha ucciso l'uomo nero. Eh, lo so, l'ho visto. Ma mi ha visto e che avevo l'oro. Mi ha rubato per chi voleva il mio tesoro. Comunque c'è ancora experimentation. Prego, abbiamo fatto una bella caccia prima, eh. Abbiamo raccolto un bel po' di roba. Date che ho chiamato che arrivo. Abbiamo fatto una bella caccia prima, però, eh. Voglio voler provare a vedere dove era il mio animale preferito. È cazzatevare, dai, su. Animale preferito. Eh, io arrivo un atto un secondo, eh. Un atto che arrivo, intanto. Voi andate, arrivo subito. Un coglione. Non arriva il vlog. Un coglione. Scusatemi, ora sono operativo. Andiamo Ok Quindi nessuno è entrato di qua Maro E che cazzo Ma l'avevi spaventato Porca miseria Ma lo mostro uccido è quello? Sì Chi? Dove che mi basta Ti metti sulla cosa Cosa? Ragno? No, la ringhiera non funziona No, beh Luce Niente Che cacchia è quella cosa? Che cazzo era? Non lo so Ma non mi piace Oddio Ah, non fa niente quello Ah no? Ok Solo paura Uh, regalo Ok L'unica cosa che c'è qua Ok, ce lo sanno Mostra che non c'era il rosso Infatti Infatti vedi come ci ronzola Sta là Pazzo Stupido Posso passare davanti Vedete che succede Non c'è un Kaiser Ok Allora ci possiamo andare Non c'è una chiave in realtà Ah? Oddio Che è successo? Che è successo? Niente Boh Avevo che c'è una chiave No Ora Non mi sembra Quindi ora ce ne andiamo Andiamo per di qua Andiamo per di qua E poi di qua Generatore C'è qualcosa Qui che non ho ancora controllato Che c'è qua? Ah Vedi che c'è un altro percorso Ah Lì non ci sono andato Vabbè Vieni un attimo con me prima Usciamo da qua? C'è una chiave Abbiamo una roba Ce la portiamo via Per il momento Che cazzo era? Non mi è piaciuto Rientriamo Fieri Stavo un percorso Che non l'abbiamo visto Sì solo uno Andiamoci a topo E portavamo pure a questa roba E vediamo di andare là E vediamo di andare là c'è un'area più avanti se vai dritto per di qua di qua lì non l'abbiamo fatto lì egg bigger infatti c'è qualcosa là prendo io prendo io vedi cosa c'è in zona niente ok allora abbiamo fatto tutto vediamo quanti item ci sono ci sono ancora 5 item ah io mi sto venendo un bel latte caldo al cioccolato no non ero il caffè no è tardi ho visto che sono ai 7 e 40 c'è più che altro non è che è tardi non è che è tardi è che è prima di cena allora c'è aspetta c'è march wow experience dovevo andare dove tu volete dove volete dai così perché io questo l'ultimo viaggio per me dopo devo staccare per forza dove devo staccare sì sì anche dopo stacco ma più che altro perché ho un ospite che sta per arrivare per le 8 quindi prima faccio meglio è ma se compriamo i morti d'orti ma che è ma che ferda avrò i morti vabbè pazienza sì ma tanto dopo questa non uso più questo server l'altra 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 mar mina mina l'altra al diavolo come farsi abbracciare e spremere ciao grazie un saluto un abbraccio avvolgente che ci vuoi fare è rimasto aspetta ha acquittato quell'altro l'altra acquittato aspetta e questo è Vabbè Ragazzi che dire L'abbiamo finita Lontano mi sono stati messaggi Mo' ascolto Devo andare a controllarci Sei tutta a posto nel B&B Sì scudo e bonza Ok ho capito bro Poi ne parliamo dopo Quello ha quitato Ah bello Tra l'altro sei disconnesso Già E vabbè infatti Mi ha dispiaciuto che sei disconnesso Te lo dico Vabbè così la stacchiamo raga Ma io faccio la battuta simpatica Tutto per Mannaggia Quando si dice l'amicizia soffa Con la braccia avvolgente Cioè spremuto Malisse in faccia Vabbè Peccato che quello Ha quitato Sì Tanto lo stesso Anche io Ha quitato Che vuoi giocare Ci sta Dai è stata una bella partita Dai Se vuoi vedere la partita Se vedrà in live Su delta 28 ita O altrimenti Lo troverai su youtube Più o po' Bella Ok ciao ciao Bene Ok a posto ragazzi Io interrompo qui Abbiamo fatto Quello che dobbiamo fare Onestamente ci sta E stasera Paradia Maratona di Paraworld Sì Con il mio amico Dictator Faremo nel continuo Della trama Tanta roba Bella Ok Qui delta 28 Passo E chiudo Bella raga